Scegliere questo liceo linguistico significa scegliere proprio l'idea di una identità e di una cittadinanza europea, quindi da noi si studiano in effetti l'inglese, la lingua e la cultura inglese e tre lingue comunitarie che sono il francese, lo spagnolo e il tedesco, chiaramente lingua e cultura straniera e in questo senso veniamo incontro a quella che è la raccomandazione della Commissione europea e non solo, a quelle che sono le esigenze e le richieste del mercato del lavoro. Venire da noi significa proprio poter coltivare la passione per le lingue straniere perché nel corso dei cinque anni i nostri ragazzi comunque hanno oltre 200 ore in più di lingua rispetto all'iceo linguistico tradizionale, quindi questo ci dà la possibilità di fare tutta una serie di attività, ad esempio prepararli in orario curricolare alle certificazioni linguistiche, arriviamo a livelli addirittura C1, ma anche fare, fondamentalmente fare con le lingue straniere, quindi avere un'esperienza diretta. Uno dei nostri fiori all'occhiello è sicuramente il metodo Cambridge. Il metodo Cambridge non è solamente insegnare alcune discipline in lingua inglese ma è un sistema di insegnamento che mette al centro lo studente in un modo che è collaborativo e laboratoriale. Le materie Cambridge vengono insegnate utilizzando dei libri di testo che sono approvati dall'Università di Cambridge e da docenti che ricevono una formazione specifica dalla stessa Università di Cambridge, in particolare dal Dipartimento di Cambridge Assessment International Education. Gli studenti che utilizzano il metodo Cambridge possono sostenere al termine dei loro percorsi degli esami di certificazione che sono uguali in tutto il mondo, in tutte le scuole Cambridge. Gli studenti che sostengono queste certificazioni hanno maggiori opportunità di accesso alle università internazionali. Ovviamente l'esposizione alla lingua inglese fa sì che il loro livello linguistico sia generalmente molto più alto rispetto a quello dei loro coetanei. E infine, non da ultimo, ci sono le competenze trasversali che questi studenti sviluppano, quali appunto le competenze di ricerca, di collaborazione, di comunicazione e valutazione e analisi. Vuoi imparare a essere di casa nel mondo? Bene, noi siamo qui per te!